Ciao a tutti, non sono nella mia solita location, ho cambiato postazione e spero che vada bene nel modo in cui ho sistemato la luce e il microfono, però prendete questo video un po' così, sarà un video molto casereggio infatti non ho intenzione di affrontare alcun argomento particolare e voglio solo aggiornarvi un po' sugli ultimi fatti della mia vita e nel frattempo anche fare un po' di suoni rilassanti, soprattutto vorrei fare un po' di tapping mi sono arrivate moltissime richieste di un altro video di tapping e forse alcuni di voi avranno visto quello recente di tapping sul vetro ma oggi lo farò su qualche altro oggettino e soprattutto per accontentare la richiesta di una ragazza che mi segue sempre, mi dimostra sempre moltissimo affetto e solidarietà che è Elena Maria ciao, ti mando un bacio grande grande e mando un bacio anche a tutti voi che state guardando questo video e ascoltando i gabbiani in questo momento un ragazzo mi ha chiesto come mai in uno scorso video parlassi di rumori strani tipo l'abbaiare dei cani ma poi effettivamente non si sentisse questo suono del video e questa è tutta opera del montaggio allora, iniziamo subito subito ma prima un altro piccolo salutino a Giovanni Gutillo che mi ha chiesto di essere salutato è stato molto gentile e veramente a lui un grazie speciale per il sostegno al mio canale e anche ad Andrea G e a Fabio A che in questi giorni hanno fatto delle piccole donazioni per il canale e naturalmente al mio amico Raffaele che mi supporto sempre grazie a tutti voi bacini bacini ok direi di iniziare a fare un po' di topping vario è la prima cosa su cui mi piacerebbe fare topping ma anche un po' di scratching è questo profumino nuovo allora ragazzi dovete sapere che ho fatto i danni perché sono stata al centro commerciale e non lo so mi ha preso una specie di follia compulsiva dello shopping e ho comprato tipo il mondo in particolare questo profumino della Shaka si è una marca piuttosto economica la vendono all'OVS questo costava 9,99 euro e sono ben 100 ml di prodotto apriamolo insieme era moltissimo tempo che desideravo questo profumo perché l'avevo sentito una volta e me ne ero innamorata si tratta di un profumo fiorito e molto dolce e anche leggermente talcato sentite il rumore o lo sento solo io adesso lo vaporizzo ah quanto è buono tra l'altro è sera io ho l'abitudine di sbrozzarmi il profumo prima di andare a dormire comunque di questa linea ce ne sono veramente moltissimi quello che ho acquistato io si chiama Betal ho reso tantissimo sul nome non lo so perché anche questo fa parte della mia follia probabilmente che inizia a farsi sentire a una certa età però tipo sono stata tutto il giorno a ripetere o Betal o Betal quante volte avrò detto tipo un po' direi di cambiare oggetto su cui fare il dumping e vi devo anche aggiornare su una cosa che molti di voi già sapranno che riguarda il mio canale una specie di incidentuccio che è già stato però prima vi faccio vedere questo questo grazie a Giovanni Andrea Fabio e Raffaella e ho acquistato questo piccolo stativo per il microfono per quanto utilizzo lo zoom adesso però lo stativo non è nella scatola comunque non è uno stativo con terpiadi e e niente vi dicevo vi piace il mio smalto? questo è uno smalto di Kiko però non ricordo il numero è molto carino secondo me è una specie di rosso fragola infatti lo indosso spesso e allora che cosa è successo con il mio canale? praticamente una cosa che sarà accaduta a moltissimi altri creators dopo tutta la questione sulla pirateria che abbiamo fatto e le varie discussioni che non mi va di ripetere non so se è correlato davvero a questo evento no comunque un simpatico utente ha deciso di scaricare tutti i miei video e di ricaricarli su un proprio canale e questa cosa mi ha dato molto fastidio perché non so se potete immaginare il lavoro che c'è dietro a un video soprattutto quando chi lo realizza si impegna per offrire un contenuto non dico di qualità perché poi alla fine sempre di video ASMR fatti a casa mia si tratta quindi non è che io posso offrire chissà che qualità però un video con dei non lo so con delle attenzioni particolari con una cura magari del suono e si c'è molto lavoro dietro a questo e soprattutto c'è molto di me perciò il fatto che sia stato rubato praticamente l'intero canale perché poi si tratta proprio di un furto di identità cioè questa persona non lo so finge di essere me tramite un altro nome mi ha intristita e quindi che ho fatto vabbè ho compilato ovviamente il modulo standard di qualcuno che tossisce il modulo standard di youtube per il reclamo e poi però sono anche andata a fare una denuncia alla polizia costale in modo da poter risalire anche speriamo alla persona che ha compiuto questo atto speriamo che tutto si risolva per il meglio nel frattempo volevo anche ringraziare Lucas ASMR che ha risposto al mio tag legal tag anche detto evil tag per noi che siamo italiani non siamo anglofoni e anche Eleonora Glamrush che tra l'altro saluto doppiamente perché vi devo parlare da un sacco di tempo del suo libro che ha scritto e non l'ho ancora fatto per bene perché il video in cui accenno al suo libro l'ho registrato ma non l'ho ancora caricato sul canale e quindi sono in estremo ritardo vi sta piacendo questo tipo messaggio subliminale per indurvi ad acquistare questo cavalletto compratelo compratelo non sto scherzando però è carino perché è di quelli che si vedete si appendono si arrotolano come si dice c'era uno scioglilingua che facevo con uno dei miei migliori amici stupidissimo ti fa allora arrotolamelo che dall'altro sembra pure una cosa un po' a doppio senso però non lo è ve lo sicuro provate a dirlo velocemente allora arrotolamelo allora arrotolamelo ah però io ci riesco comunque è di quelli insomma morbidi ecco e magari può essere utile questa funzione poi è carina perché è verde e poi qui c'è scritto 20 cm che mi ricorda il titolo di un film dalla trama dubbia e vabbè quindi dicevo vi devo ancora parlare di questo libro di di allora però semmai vi lascio già qui sotto in descrizione il link per scaricarlo e poi lo farò anche in un video successivo andate a dare un'occhiata perché Eleonora è veramente una ragazza in gamba e secondo me merita attenzione intanto come scrittrice ovviamente poi volevo ringraziare anche Gabriele per aver risposto sempre al tag e insomma ringrazio poi tutti di coloro che avranno voglia di farlo anche se sono stati troppo buoni ma un po' di bontà ci vuole dopo tutto il caos che è successo guardate che cosa va questa busta conteneva della carta igienica lo so che è molto interessante tutto questo per voi ma d'altra parte se volete addormentarvi non posso parlarvi di cose che vi tengono svegli comunque come ultima cosa vorrei parlarvi tagliamo un po' questa busta chissà che rumore ho fatto magari era terribile allora ho qui un fantastico dischetto della playstation 2 e ovviamente non è mio perché io non ho la playstation pro evolution soccer e dicevo volevo parlarvi della mia esperienza con l'extension alle ciglia che ho fatto un po' di tempo fa perché mi è stata regalata mi è stata regalata cosa l'esperienza il trattamento vabbè diciamo che non mi sono trovata benissimo probabilmente per il tipo di prodotto che mi è stato applicato cioè erano delle ciglia molto dure nel mio caso comunque sintetiche ecco ovviamente non so da che punto si sia stoppata la registrazione però vi stavo parlando della mia esperienza con questa extension delle ciglia che mi è stata regalata come trattamento e tra l'altro ho preso su groupon e non mi sono trovata bene dicevo perché diciamo che sentivo molto le ciglia finte e le sentivo pesanti probabilmente erano troppo dure perché comunque erano ciglia sintetiche però veramente fatto di un materiale che non mi è piaciuto troppo e anche la colla era abbastanza fastidiosa nel mio caso mi piacerebbe sapere se qualcuna di voi magari ha provato questo trattamento come si è trovata e diciamo che nel mio caso le ciglia naturali si sono indebolite molto e si sono strappate infatti sono rimasta praticamente senza ciglia adesso dovrò fare qualche trattamento con l'olio di rigino per farle ricrescere e poi era anche piuttosto scomodo ottenere l'extension mentre facevo la faccia perché non si possono strezzare gli occhi non si può fare il movimento di strobeggiarli con la mano quindi alcune cose semplicissime diventano complicate e quindi ah che altro dirvi basta vi saluto e spero che questo video abbia senso almeno un po' prendetelo un po' così alla buona che ogni tanto ci sta bene se non poi mi dicono cose brutte se faccio solo video impegnati scherzo anzi qui ci sta benissimo una cosa che non vi ho fatto vedere se ne scappoggiare questa ecco ve la faccio vedere solo perché siete voi questa è la mia maglietta mito praticamente adesso la indosserò ogni volta che farò un video e anche ogni volta che uscirò di casa perché contiene un motto importantissimo che tutti noi dovremmo sempre ricordare tenere bene a mente era talmente importante questo motto che un tempo avevo pensato di tatuarmelo qui sul polso e poi non lo so per qualche motivo non avevo trovato il coraggio ma il motto è anche la risposta alla mancanza di coraggio perché la mancanza di coraggio è derivata magari dal pensiero che gli altri possano giudicare male questa frase possano giudicare male una persona che dice questa frase che è una frase che ha senso solo nel Lazio e che al nord significa tutt'altra cosa a quanto pare però insomma vabbè vi faccio vedere la maglietta vediamo se ci riesco senza fare troppi danni ricordatelo sempre vi mando un bacio e ci vediamo se vi va al prossimo video ciao ciao